Si ha fuori la voce, ma certo che la tiriamo fuori, altro che che la tiriamo fuori, ecco la super luna di Gorizia 14-11-2016 questa è la luna splendida che la vedrete di nuovo così splendida, così vicino alla terra fra 32 anni, han detto un'altra tv ha detto 18 anni, adesso c'è da crederci, già che le tv di solito contano tante di quelle miserie allora alla fine credete a chi volete, io ho detto noi fra 32 anni ci saremo di sicuro perché così andremo a vedere che differenza che passa scherzo, fra 18 anni, bene allora devo dire che qua siamo a Gorizia, vi faccio vedere questa bellissima luna che splendide in modo veramente speciale, una giornata splendida ma molto fredda e vi faccio vedere anche il castello di Gorizia sotto questo bel splendido castello e questa luna che splende in questa fenombra di Gorizia, fredda molto fredda però io ho aumentato i game così potete vedere benissimo il nostro castello di Gorizia guardate che bello, un castello favoloso che qui c'erano i conti coronini, cose storie veramente super speciali la mitte l'Europa, oggi non siamo che mitte l'Europa, ci stanno portando via tutto, la provincia e tutte le cose sentiremo alle prossime, bene allora qua da Gorizia vi faccio un bel saluto, saluto gli amici di Cordovado perché adesso andremo a vedere un bellissimo servizio, visto che l'altra volta non abbiamo potuto vederlo andiamo a vedere una bellissima sfilata medioevale di Cordovade